Abbiamo vicino due grossi professionisti, sono molto fiero e orgoglioso di aver preso il nostro direttore e un grande allenatore. Sono ben felice che hanno accettato con grandissimo entusiasmo questa piazza, perché oggi nel bene e nel mare è una piazza ambita da tanti professionisti importanti, quindi vuol dire che in tutti questi anni abbiamo lavorato bene, abbiamo creato un ambiente ideale, abbiamo vinto tanto, qualche sbaglio sicuramente c'è stato, ma il calcio si deve andare sempre avanti e quindi andare avanti significa che ancora di più io e la mia società in primis ci dobbiamo impegnare affinché questo progetto possa di nuovo andare avanti, andare avanti con le forze di questa società e sicuramente essere noi primi i tifosi di questa società. Aura tutti e due di creare una squadra competitiva, una squadra che sa come io la penso, quindi una squadra che ci faccia divertire, che faccia qualche gol e poi sicuramente con la grinda e la determinazione del mister, con la capacità del nostro direttore sportivo, sono sicuro che questi due ci daranno grandissime soddisfazioni, vi ringrazio vivamente e voglio ringraziare Mister Vivarini, il suo staff e Marcello Di Giuseppe per quello che ci hanno dato in questi anni.